ciao ragazzi partiamo con la prima lezione che riguarda la digitalizzazione di un segnale continuo lo avevamo già visto a scuola una delle ultime lezioni di in presenza e dovevamo fare la verifica su questa lezione ripartiamo da questo argomento e vedremo di fare una verifica online in qualche modo mi inventerò qualcosa per darvi un voto ok allora questa è la lavagna elettronica ormai lo sapete proviamo a andare a scrivere allora mi vado a prendere il materiale eccolo qua quindi vado andare a catturare e ci metterò un po di tempo scusate pensavo che non funzionava perché ok allora andiamo a prendere il materiale chiudiamo questa finestra andiamo sul desktop ok ci catturiamo questa parte che ci interessa e ce la portiamo sulla lavagna elettronica ok quindi che cos'è un segnale analogico un segnale digitale allora un segnale analogico è una grandezza fisica che varia nel tempo la nostra voce la corrente elettrica la tensione qualsiasi cosa si possa misurare in funzione del tempo a cui quindi possiamo quindi a cui quindi possiamo associare un'informazione che possiamo descrivere con una funzione s uguale s di t questa è la funzione s uguale s di t quella che vedete in figura è la funzione che è s uguale s e t possiamo avere come ho detto segnali elettrici la tensione la corrente segnali acustici la nostra la nostra voce segnali elettromagnetico segnali che si trovano in natura le grandezze in natura suono tensione variano in modo continua all'interno di un intervallo di tempo d'osservazione se io considero questo intervallo di tempo dati con uno supponiamo questo sia t con uno e questo t con due la mia funzione mi varia in modo continuo cioè passa da un valore al successivo in modo costante continuo non ci sono dei salti tipo in questo modo ecco questo non è una funzione continua quindi si può rappresentare l'andamento come in figura ok nella codifica digitale invece nella codifica digitale si opera solo con valori che hanno valore 0 e valore 1 il codice binario tale continuità purtroppo non esiste più nel digitale e il suo andamento non segue più l'andamento della grandezza originale cioè se noi digitalizziamo questa forma d'onda che vediamo qua in digitale non è più non ha più un andamento di questo tipo vedremo che tipo di andamento avrà ok passiamo alla pagina successiva e andiamo a digitalizzare una nostra funzione allora andiamo a prendere qua facciamo il diagramma guardate che precisione questa sì che è una lavagna dove qua ad esempio possiamo avere il volume o la tensione volte fate voi non ha importanza e questa è la nostra funzione che dobbiamo utilizzare e qua siccome è una funzione del tempo abbiamo il tempo all'inizio abbiamo t con 0 che è il primo campione e io vi fornirò il valore massimo a cui arriva questa funzione supponiamo che il valore massimo sia 15 facciamolo meglio il valore massimo sia un 15 supponiamo quindi che io vi dia questo testo da da eseguire questo esercizio da eseguire sto parlando di un esercizio non quando torniamo vi becca 1 a 1 e vi do l'esercizio voi lo dovete poter fare per prendere almeno un 6 ok io vi dirò di campionare la funzione in 5 su 5 campioni scriviamolo meglio campioni facciamo così facciamo prima campioni ok possiamo anche ingrandirlo bene quindi voglio 5 campioni e la voglio ogni campione voglio che sia codificato su 3 bit quindi 3 bit per campione bit per campione ok attenzione questo è un esercizio che doveva essere messo sulla verifica una cosa del genere quindi io ve lo posso anche chiedere online e vi metterò un voto sul registro 5 campioni abbiamo detto allora io mi vado a determinare i 5 campioni tutti alla stessa distanza scusate la matita ecco t con 0 già ce l'abbiamo quindi qua avremo t con 1 anzi facciamo una cosa più larghi campioni perché ci abbiamo spazio quindi qua io avrò t con 1 qua avrò t con 2 qua avrò avrò t con 3 qua avrò t con 4 che in realtà non è il quarto campione ma è il quinto campione perché iniziamo da t con 0 la prima domanda che mi devo chiedere ce la faccio io ad effettuare il campionamento su 3 bit su questa funzione o mi occorrono più bit basta osservare questo valore il valore massimo il valore massimo 15 che è un numero espresso in decimale in binario lo potete vedere dalla tabella che vi ho dato oppure fate direttamente la conversione corrisponde a 1 1 1 1 quindi conto i bit che sono la bellezza di 4 quindi 3 bit non mi bastano quindi io devo andare a correggere questa informazione spazio cancello il 3 e metto 4 ho bisogno almeno di 4 bit procediamo a questo punto mi vado a prendere i valori corrispondenti ai vari campioni ecco mi traccio queste perpendicolari all'asse t in corrispondenza ai vari campioni e mi determinano questi punti 1 2 3 4 e il quinto è qua quindi oggi posso scrivere che il campione t con 0 è uguale a 0 mentre il campione t con 1 mi vado a riportare il punto sull'asse del volume supponiamo queste 15 quindi qua abbiamo supponiamo 7 quindi qua avremo 8 ok poi anche mi vado a riportare me li riporto tutti già che ci sono quindi qua avrò suppongo 14 e qua avrò quest'altro punto l'ultimo campione suppongo di avere 5 quindi mi vado a scrivere il valore di tutti i campioni t con 0 t con 1 che vale 8 t con 2 che vale 15 t con 3 che vale 14 e t con 4 lo sappiamo già uguale 15 ok a questo punto mi devo ricavare di questi campioni il valore di questi campioni il valore in binario su 4 bit allora t con 0 il problema non si pone è 0 in binario e 0 ma siccome devo aggiungo davanti 3 0 quindi mi trovo lo 0 su 4 bit t con 1 uguale 8 8 in binario lo vedete dalle tabelle oppure 8 diviso 2 uguale 4 resto 0 questo l'abbiamo visto lo sapete fare abbiamo fatto anche la verifica 4 diviso 2 uguale 2 resto 0 2 diviso 2 uguale 1 resto 0 e infine 1 diviso 2 uguale 0 resto 1 lo leggo da basso verso l'alto ottengo 1 0 0 0 0 quindi t con 1 è 1 0 0 0 0 su 4 bit questo è un valore binario a questo punto mi vado a ricavare t con 2 che già lo so è dato da 1 1 1 1 1 in binario t con 3 che è 14 quindi è 1 0 e scusate no 1 1 1 1 1 0 in binario e infine t con 4 è uguale t con 4 no e non è 15 c'è un errore è come in classe quando commette errore nessuno parla anche qua in virtuale non cambia nulla quindi t con 4 è 5 lo vedo da qua t con 4 salgo ed è 5 quindi t con 4 uguale 5 quindi se io mi vado a trasformare il 5 allo stesso 5 diviso 2 allo stesso modo uguale 2 resto 1 poi piglio su 2 me lo porto qua 2 allo stesso modo 5 diviso 2 allo stesso modo uguale 2 resto 1 poi piglio su 2 me lo porto qua 2 diviso 2 uguale 1 resto 0 piglio su 1 me lo porto qua 1 diviso 2 uguale 0 resto 1 quindi il numero 5 è dato da 1 0 1 siccome devo operare su 4 bit aggiungo uno 0 davanti tanto non mi chiama il risultato quindi il 5 in decimale è uguale a 0 1 0 1 e quindi qua mi vado a scrivere 0 1 0 1 a questo punto mi posso fare il grafico della mia funzione in binario vado a prendere le rette ok la teniamo bella lunga tanto qua abbiamo spazio qua abbiamo il valore di 1 ad esempio ecco 1 allora la nostra funzione sarà così andiamo a vedere t con 0 t con 0 eccolo qua t con 0 è tutti 0 quindi qua t con 0 è 0 qua 0 0 0 0 poi abbiamo t con 1 c'è un 1 quindi qua ci sarà un segnale di questo tipo come vi ho fatto vedere a lezione ok poi ci sono 3 volte 0 quindi 0 0 0 infine no infine scusate t con 2 poi quindi t con 2 sono 4 volte 1 quindi 1 2 3 e 4 e quindi ci sarà un segnale di questo tipo ecco qua i 4 bit dopo di che abbiamo 1 1 1 0 quindi 1 1 1 0 quindi possiamo prolungare questa ci abbassiamo qua e abbiamo anche il segnale qua poi poi segue 0 quindi siamo 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 a t con 3 e infine t con 4 che è 0 1 0 1 spero di aver fatto giusto 0 1 0 1 quindi abbiamo un segnale qua e un segnale qua quindi la nostra la nostra il nostro segnale in digitale si trasforma in questa stringa di bit che in realtà se noi andiamo a prendere il rosso è un segnale di questo tipo cioè ci sta a dire che il campione il segnale parte da 0 e continua da 0 fin quando non arriva al campione successivo il campione successivo t con 1 vale 8 quindi il segnale balza in alto fino al valore 8 ecco vedete la continuità non c'è più perché da questo punto a quello immediatamente dopo saltiamo subito a 8 allo stesso modo continuiamo a 8 fino al prossimo campione e poi andiamo su poi allo stesso modo continuiamo a 15 fino al prossimo campione poi scendi giù continuiamo a 14 fino al prossimo campione poi scendi giù abbiamo finito perché era l'ultimo campione quindi questa la nostra funzione quello è rosso che andiamo a rappresentare con questa sequenza che si perde l'informazione relativa a tutta questa parte questa colorata gialla questa la perdo comunque perché non viene memorizzata viene tagliata fuori ne aggiungo una parte che non faceva pa anzi facciamolo facciamolo di un altro colore verde è la parte in verde eccola è una parte che aggiungo al mio segnale ma non faceva parte del segnale originario quindi commetto sia errori perché tolgo delle parti che ne facevano parte sia degli errori che non facevano parte del segnale originario capite che se io utilizzo un numero di campioni più stretto l'errore si riduce quindi più stretto è il campione più si riduce l'errore vi faccio presente che nell'audio che noi ascoltiamo gli mp3 tipici la frequenza di campionamento è 44 44.000 circa di campioni al secondo lo vedremo più avanti in un esercizio quindi in ogni secondo viene letto il valore della funzione e digitalizzato argomento finito studiatelo bene perché è un argomento importante vi interrogarò online oppure vi farò fare l'esercizio online ovviamente non su questa figura magari vi lascio una figura un po' diversa tipo sale scende ecco in questo modo però lo dovete poter fare è semplice se non avete capito fate delle domande poi ci vediamo in streaming mi potete fare prima delle interrogazioni del compito che faremo online vi potete fare tranquillamente con il compito che effettere la subito con il compito che faremo online mi potete faremo online vi potete faremo online vi potete vedere